Ci ferite. Poteva andare peggio, poteva andare meglio, se non fosse stato per quel prete. Sapeva già che ci avrebbero sparato addosso. L'ha suggerito lui a Capur. È vero, è stato lui. Ma certo, sta sempre con i ragazzi di Portapalazzo. Vuole mettere insieme un esercito contro il rivoluzionario. Qualcuno lo conosce? Sì, lo conosco io. Si chiama Don Bosco. Raccoglie i vagabondi, gli sbandati. Starebbero tutti con noi se lui non gli riempisse la testa con quelle sciamense contro il progresso. Quel prete deve essere subito eliminato. È un uomo pericoloso. Eliminato? Non ti sembra di esagerare? Adesso non perdiamo la testa. Lo sapete che ha tre o quattrocento ragazzi? Tre o quattrocento, vi rendete conto? Così tanti. Se ne avessimo con noi anche solo la metà ci farebbero comodo. Non ci sono altre soluzioni. Noi ci dobbiamo liberare di quel prete.